starci dicendo stanno svendendo l'arte, se non si ascolta il ragionamento che ho appena fatto e che siamo titolati per farlo, perché fossimo appena arrivati potrebbe sembrare un gioco semantico di parole basta, come diceva Mina, parole parole parole, ma in realtà è una verità e non è un giorno o un mese o qualche mese che facciamo questa operazione, ma è un'operazione che dura anni, è un'operazione destinata a durare molto nel tempo perché creare questa classe di investitori non lo fai dall'oggi al domani, non è che qua si vendono i dipinti come fossero caramelle amici cari, è ovvio che è un lavoro lento, costante, di grande sacrificio e di lungimiranza, per esempio un'opera come questa, andiamo adesso a vedere l'opera 22, intanto il grande Ugo Attardi non ve lo perdete perché è veramente interessante, andiamo a vedere adesso l'opera numero 22 che è quella, ecco questo è il paradosso di un artista pazzesco, uno miccioli straordinario, ricordo sempre un mio caro amico che è collezionista di quelli veramente irriducibili, che stava ore e ore a guardare sulle aste online, sapete questo sito più serio, quell'altro meno serio, poi andava nelle gallerie, andava alle aste invece quelle all'interno degli appartamenti dove si vendeva tutto quello che andava ovunque per cercare opere d'arte importanti e mi ricordo, e questo ripeto 6-7 anni fa mi ricordo che era scatenato... a volte un'opera come questa e mi indicava un'opera straordinaria che aveva a parete non molto più grande di questo dipinto, dell'Omiccioli, che faceva parte della sua collezione, e questo è Omiccioli, e io ho un'opera che qua, il prezzo che rende giustizia a un artista titolato e soprattutto amici cari, quotato, dovremmo parlare di 2.000, 1.700 Euro, noi qua invece abbiamo un prezzo che è ridicolo, già abbiamo fatto nel molto più che metà prezzo 850 Euro, un olio su tela, lo facciamo oggi a 700 Euro, che è una pazzia, lo capite? Che è una pazzia, 700 Euro. Grazie a tutti. 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 mi sembra un percorso che qualunque artista fa e poi ha tenuto mostre personali per esempio nei Paesi Bassi, in Svizzera ed è stato invitato alle più importanti biennali e quadriennali oltre che alle grandi esposizioni dell'arte italiana dove a Montreal, a Mosca, a Nuova Delhi, Stoccolma, New York, Boston, Giappone, Londra, Madrid, in Bolivia, in Venezuela insomma ha girato le opere d'arte del grande Bigi, sono ovunque, ha ottenuto diversi premi nazionali, internazionali, le sue opere sono esposte nei maggiori musei, gallerie d'arte di tutto il mondo. Tra l'altro poi vedete come a volte non basta assolutamente all'artista esprimere la propria arte attraverso la pittura.